Let's go! Sentiamo cosa ci dirà il nostro grandissimo amico Sbortus, che ci segue sempre e noi lo seguiamo sempre. Vai! Quanto adoro i drammi, raga! Io adoro i drammi! Ecco perché su Twitch vanno solo quelli. Ma in generale, vedere, le persone che litigano per delle cazzate mi fanno morire. Mi fanno morire da ridere. Soprattutto quelli che si incazzano magari senza un vero e proprio motivo. Ma già, perché le parti è l'embole e basta. Ti ricordi la ragazza con la moto in Africa caduta e si è fatta male, ma c'era solo la prima parte? No, veramente, Fede. Ma si è fatto tanto male. Dovremmo vedere il suo video. Per vedere cosa è successo. Quando è che ne fai una tu? Ma vai dovrei diventare la ragazza che fa i drammi in live. Io posso assistere a quella degli altri. Senza esprimere troppo la mia opinione. Perché se no, poi inizio a generare di drammi anch'io perché esprimerò la mia opinione. Preferisco rimanere un po' quella che rimane seduta su... su... fence. Come si dice in italiano? Fence. La ringhiera? Non la ringhiera. La... capito? Che divide i due giardini? Cacassotto. La staccionata, esatto. Rimango sulla staccionata ad ondulare le mie gambine e vedere i drammi degli altri. Ogni tanto posso lanciare qualche bomba, forse non lo so. Vai, rivediamo, vediamo, vediamo. No, aspetta! No, scusate, quelli che stanno guardando questo video su YouTube adesso, la mia reaction, chiedo scusa, il video... Abbiamo visto solo 6 secondi, il video sarà già boh, 5 minuti, non lo so. E Alistair è l'altro ragazzo che fa i video tipo quelli di Sbortus, di Twinner e così via. Sono tipo quei video... Capito? Sei una persona di... Vai a fare in... Coglio... Testa di... Coglio... Denunciami, denunciami i capelli... Denunci... Coglio... Mi è giunta voce da un uccellino che il carissimo Alistair mi vuole querelare. Ah, ma è... Ah, ma chi era quello allora in video? Pensavo che... Non ho capito niente. Qualcuno ha capito. Vediamo Sbortus cosa ci dice. Bentornati sul canale. Ah, io dicevo non sento nulla, non ho alzato l'audio, l'ho abbassato un botto prima, non si sentiva un cazzo. Adesso ci scoppiano i timpani. Andate, fammi chiudere tale che non... Ok. State percependo un netto miglioramento nel mio audio? Questo è merito del vostro sostegno. Ogni volta che condividete un mio video, lasciate un mi piace, donatevi e abbonate al canale. Mi permettete di aumentare la qualità generale del progetto. Calmino e Sbortus si abbonano e fanno le donazioni nel mio canale. Ci sono due persone che lo sopportano. Se no sarebbe morto. Un applauso. A quelli che sopportano il mio canale morente. Sono andato avanti. Mi permettete di investire e migliorare. Questo mostro che vedete qui non me lo sarei mai potuto permettere prima, ma adesso mi permetterà infatti di introdurre format come le interviste, a riprova del fatto che il vostro sostegno non è speso in alcol ed escort. Non più con me. Fatemi quindi ringraziare Marco Lupo per la donazione e il bellissimo commento. E ringrazio gli abbonati, ovvero Riccardo Valvani e Kostel Bardasevski, che si è unito ed è diventato il più grassofobico. Un applauso a questo gentiluomo. Ora iniziamo a parlare di questa questione perché sono stato allegro finora, ma gli eventi successi nei giorni passati non mi hanno esattamente lasciato con il sorriso. Vi riassumo in breve gli eventi degli ultimi giorni. C'è stata una faida tra due canali commentari, Uomo Insetto, canale storico presente sulla piattaforma danni, ed Elister, canale che parla di... Pensa, non avevo mai sentito l'uomo insetto. Elister invece sì, avevamo già visto alcuni suoi video. Derive sociali e propaganda woke. Faida che è culminata in una querela di quest'ultimo ai danni del primo. Ora, questo litigio ha portato ad un clima molto... Non ho capito cosa ha detto. ...che parla di derive sociali e propaganda woke. Faida che è culminata in una querela di quest'ultimo ai danni del primo. Ora, questo litigio ha portato ad un clima molto, ma molto teso. E in mezzo a questa cascata di eventi io ho osato fare una cosa assurda. Ho osato ripostare... Era l'uomo insetto. Quello nel video, ok. A Elister condivide la storia scrivendo video di sbortus che merita decisamente di essere visto. Ok, noi questo non l'abbiamo visto, vedete? Ce l'abbiamo però in coda da vedere. A Elister nell'ultimo periodo è tornato più attivo che mai. Fatevi una maratona dei suoi ultimi contenuti. Ah, ok, sì, si sono ricondivise vicenda. A Elister ha fatto shout out a lui e sbortus a lui, ok. ...è su Instagram una storia di Elister che consigliava il mio ultimo video e ho... Aspetta, ma io non seguo sbortus su Instagram, manco ci avevo mai pensato. Fammi vedere. Vai. Un po' l'ho lasciato. Ho addirittura osato consigliare a mia volta i suoi contenuti. Questo ha scatenato l'ira funesta di uomo insetto che ha pensato bene di includermi tra i canali peggiori di YouTube Italia, nonché tra le persone più ipocrite e ignave della piattaforma. Quindi eccomi qui per smontare pezzo per pezzo questo fatti dico video. Buona visione. Aspetta un attimo. Uomo insetto. Iscriviti. Vai, vediamo. Andiamo avanti. Non si parla dell'argomento principale, ma va bene. Bene, questa prima frase sette il tono di tutto il resto del video, nonché quella che negli ultimi mesi è diventata, secondo me, la mentalità di uomo insetto, ovvero squalificare i video altrui quando non sono conformi ai suoi standard o ai suoi gusti in fatto di commentari. Inoltre, si inizia già con una frase abbastanza gratuita. A parte il fatto che per tre quarti di video non si parla dell'argomento principale, sì, dovresti saperlo da un bel po', dato che da settimane non stacchi gli occhi di dosso dal canale di Alistair, ma a questo ci arriviamo dopo, ok? Dovresti saperlo che i video di Alistair, per la maggior parte, sono una carrellata di news che lui trova in giro per il web. Di queste la più importante viene utilizzata per il titolo del video. Questa frecciatina che uomo insetto ha fatto, sembra piccola, insignificante, ma serve molto a inquadrare il personaggio. Vedrete dopo. Quello che Alistair ha fatto può legittimamente non piacere, ad esempio io non avrei trattato di fatti speculati sulla vita privata di Zeb, ok? Ma ancora una volta, Alistair ha elencato le opinioni più diffuse delle community slash ex-community italiana di Zeb. Non si è inventato niente. Il fatto che alla gente non piacesse la sua compagna è una delle cose più riscontrabili al mondo. Ci sono clip su clip di spezzoni di live ben prima che Zeb andasse fuori dall'Italia, dove Cristina si è comportata in un... La ragazza di Zeb è stemmi in live. 78.000 views sei anni fa. La ragazza di Zeb regisce male ad una donazione durante una live. Ma che cazzo ce ne frega! Determinato modo giudicato negativamente da molti nei commenti sotto questi spezzoni, come la famosa clip dove... Però oggi, guarda, guarda, guarda cosa succede oggi. Che clip girano di Twitch Italia e come parlano e cosa dicono. Non si scandalizzano più, eh. Sosteneva che la gente dovesse donare, senza aspettarsi poi in cambio nemmeno un saluto o un ringraziamento da parte di Zeb. Alistair ha parlato di un pensiero già ampiamente diffuso da anni nella ex community di Zeb, visibile nero su bianco facendo delle ricerchine in giro. Ed ha anche detto, alla fine, di non andare a scrivere ai parenti di Zeb per rispettare comunque la sua privacy. Così decisi di postare una storia sul mio profilo Instagram, link in descrizione, dove ripostando anche il commento di Zeb, del quale lui stesso si lamenta della varia di falsità... Dopo tutte le cazzate sparte da questo canale e tutto il fango generale che c'è stato nei miei confronti, direi col cazzo. A meno che non mi date 10 milioni di euro, le mie relazioni non hanno niente a che fare con le mie scelte lavorative. 10 milioni comunque non sono molti, Ferrero ne sa qualcosa, ciao. Ennesima prova del fatto che Alistair sia un banale canale a cerca di views, che spara cazzate. Aspe, aspe, mettiamo un attimo in pausa, ok? Certo che per un canale che si lamenta della gente che fa commentary perché manipolerebbe le informazioni, ha proprio deciso di mettere l'estratto delle sue storie di Instagram stranamente più conveniente possibile per lui. Fatemi mostrare ad esempio cosa succede poco prima di quello che ha mostrato nel suo video. Tu sei una persona di m*****a, sei una persona di m*****a, vai a fare un c*****o, c*****o. Ma quanto è agitato, ma perché? Ma non pensa due volte prima di postare una storia di questo tipo, soprattutto quando riguarda un'altra persona, ma se è così incazzato, ci sarà un motivo? Gli avrà fatto qualcosa di... che magari noi non sappiamo? o si è surriscaldato così a caso da solo? Questo non è Alistair. Anche se in realtà noi vediamo questo nome, quindi non sto capendo. Anch'io prima mi ero confusa perché qua a sinistra vedi Alistair Saga. però non è lui. Questo dovrebbe essere l'uomo insetto. Tu sei una... Fatemi mostrare ad esempio cosa succede poco prima di quello che ha mostrato. Ha proprio deciso di mettere l'estratto delle sue storie di Instagram. Sarà una cartella di storie in evidenza. Ah, giusto. Le storie in evidenza... Ma fanno le cartelle con le storie in evidenza per quanto riguarda i drambi nelle storie? È possibile per lui. Fatemi mostrare ad esempio cosa... Così forse le storie poi non... quando scadono, effettivamente non scadono e rimane la cartella. Perché sotto ce le risponde cosa succede poco prima di quello che ha mostrato nel suo video. Tu sei una persona di... Giusto. Sei una persona di... Ma vai a fare in... Coglio. Testa di... Coglio. O anche cosa succede poco dopo quello che ha mostrato nel suo video. In quattro anni che ho aperto il canale YouTube ho querellato una sola persona. Stasera abbiamo il secondo vincitore e lo ringrazio e devo giusto cambiare il computer. Ah, ecco i drammi. Ecco perché lui risponde è questo. Per le storie di Alistair. Sono coglio... Ma a parte quello. Quanti anni ha l'uomo insetto secondo voi? E poi non è quella per dire che sono coglio... Di fatto. Però vabbè. Oppure, visto che si lamenta tanto della querela mettiamo l'ospezione delle storie nel quale incoraggia Zeb a denunciare Alistair. La gente che dice eh, però l'ho fatto per la sua ragazza l'ho fatto per questo perché lo condiziona tutte queste st... Che gode perché si è lasciato con una persona che non conosciamo questa gente qua merita di essere querelata. Zeb querela questa gente qua veramente. Sono dei figli di... Porca... E io vi dico anche che questa roba va avanti da ben prima. È anche andata ad esempio nelle live di TikTok a scrivere a gente un po' imbranata che non aveva molta confidenza con il fare live affinché dicesse Alistair brutta copia di tweener. Un saluto ad Alistair la copia di tweener. Per poter... Ma si... felice ma raga ma... ma... brutta come cosa eh? Ma quanto deve essere disperato quel ragazzo per fare tutto questo? Per poi filmare questa clip e postarla nelle storie però convenientemente nel video abbiamo un uomo insetto il ragazzo che ha mosso critiche legittime nei confronti di un creatore di contenuti e che viene ingiustamente censurato perché non la pensa come Alistair. Piccola informazione di servizio l'insulto sui social network diventa reato quando ad esempio viene commentato un post pubblico pronunciando frasi offensive nei confronti di qualcuno. Poi non hai quere labri dire che sono... Madonna allora quanta gente dovrei quere... Non riesco a dire tante R tante L insieme dovrei annunciare un botto di persone però vabbè Certo che per una persona che si è prefissata di opporsi contro i canali commentari cattivi e manipolatori è stato incredibilmente conveniente escludere ciò che veramente ha causato la querela perché uno spettatore che non ti segue su Instagram e tendenzialmente sono molti potrebbe davvero perdersi tutte queste importanti tue affermazioni che valeva la pena di mettere sul piatto della discussione o forse pensi davvero che la querela sia partita davvero per quella critichetta che hai mosso al suo video sai uominsetto dato che poi anche io entrerò in gioco nel tuo video sai cos'è successo quando anche io ho fatto presente ad Elister che il suo video su Zeb non era di mio gradimento sai che cosa mi ha risposto il perfido canale che censura chi la pensa diversamente da lui non accettando le critiche mi ha risposto che avevo tutto il diritto di pensarla così senza alcun problema ma quindi la querela ma 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 mica hai ragione veramente dovrei denunciare un botto di persone così mi faccio i soldoni e sono a posto per un bel po' le prove ci sono è partita per ciò che uomo insetto ha detto nel suo video o per ciò che convenientemente non ha mostrato a voi l'ardua sentenza i drammi ho deciso di esprimere la mia opinione in ogni caso dopo questa storia mi viene da dire solo una parola ipocresia mi fa straridare il fatto che ha messo queste clip velocizzate con questa vocina qui c'è lui di sottofondo che si lamenta ma con questa vocina tipo poco serio cioè non lo puoi prendere sul serio ma vi ricordate l'uomo e l'uomo insetto l'altro ragazzo che avevamo visto alcuni suoi video l'uomo non è l'uomo è l'uomo quello lì che aveva il personaggio strano col cappellino ve lo ricordate che anche lui fuori di testa che stava sul balcone faceva i video c'era l'uomo gatto quello che piangeva sempre esatto com'è che si chiamava dai raga avevamo visto qualche mese fa un bel po' di suoi video e c'era sempre lui che piangeva nei video non è dottor Bavaro non era neanche muso l'uomo fu caccina no come 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 che si chiamava che fino ha fatto lui quello che faceva anche le canzoni tipo vabbè faccio sapere non mi ricordo come si chiamava adesso magari lo troviamo no non era quello che piangeva per la sua tipa che era andata con un altro no ma non era la sua tipa era la tipa del suo amico manuxo no non credo l'uomo sirino no raga dai 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 come si chiama quello che piangeva esatto che veniva censurato si censurava e c'era sempre il cane che abbaiava sul balcone lui che insultava tutti quanti dai che c'è qua da qualche parte aspetta aspetta che lo troviamo un secondo l'uomo insetto no io non lo vedo aspetta ah anche io dillo senza piangere bravissimo fa ancora video vediamo ma non c'è più il canale aspetta in che sé non c'è più il canale ma raga ma l'ha eliminato lui o è stato bannato in qualche modo no peccato che brutta fine sapevamo che sarebbe finito così dai lo sapevamo per ma bann ciao franci entro in gioco io ragazzi che onore avere una piccola parte in questo meraviglioso video di questo paladino della cazzo che belli sti drammi giustizia ingiustamente censurata big diabolica mi sono macchiato del crimine di aver ripostato la storia di Alistair e di aver addirittura consigliato il suo canale roba che faccio abitualmente da mesi ma questa volta è diverso questa volta non avrei dovuto perché un compagno influencer che l'ha offeso ripetutamente è stato querelato e quindi sarei ipocrita perché non mi sarei schierato attivamente in una cosa che non mi riguarda e uomo insetto nel suo video ha anche spiegato le mie motivazioni dato che è nella mia testa e sa cosa penso chiaramente la motivazione è stata mi conviene allora qui dato che sono stato coinvolto direttamente allora dire che questo video esattamente come quello di Twinner è vero ma effettivamente se ci pensi Shetro non è che Twinner ha inventato un genere di video o comunque uno stile di video che ha inventato solo lui e basta c'ha nessun altro può fare roba simile Twinner ha preso una roba che andava in America cioè il genere commentary l'ha portato in Italia se non sbaglio è stato tra i primi se non il primo e di conseguenza sono arrivati anche gli altri che hanno iniziato a fare video di questo tipo il genere è commentary come ci sono i canali reaction come ci sono i canali di cucina e di buon qualcos'altro si contraddistinguono tutti quanti per l'opinione che esprimono e gli argomenti che trattano i canali commentary però vanno avanti con i drammi o i drammi degli altri influencer o che cazzo ne so quello che succede su tiktok quello che succede su youtube o quello che succede in generale con personaggi famosi però è un po' sempre trash quindi per quello sembrano tutti uguali perché trattano anche argomenti molto simili spesso anche uguali solo che esprimono l'opinione in maniera diversa perché ovviamente sono persone diverse e perché fanno video uguali o simili perché vanno qual genere soprattutto quegli argomenti vanno perché se parlassero di qualcos'altro a cui nessuno frega un cazzo non andrebbero così tanto trattano argomenti quasi questi direi inutili ma anche io prima di guardare questo genere di video dico no raga siete pronti a vedere i drammi di Fedez non ce ne frega niente però ogni tanto ce li guardiamo perché nel mio caso io dico ogni tanto ci sta a vedere che cosa succede nel mondo ma nel mondo di questo tipo capito qualche dramma ogni tanto ma lui era uno dei primi a portarlo in Italia del più grande conosciuto in questo genere ma ci sta ma è giusto però non può mica essere l'unico cioè gli altri adesso visto che c'è solo lui non possono farlo non avrebbe senso quindi come tweener l'ha portato in Italia per primo anche in America è stato così poi gli altri hanno preso come dire hanno iniziato a copiare che in realtà però non è un copiare semplicemente beh è sempre stato così dai su internet è inutile dirlo trash e drammi è anche pieno in tv la gente guarda quello ma esatto ma un botto va tantissimo questo genere chiamiamolo così non so neanche come definirlo i drammi e le robe trash vanno un botto si un po' come qualche anno fa che YouTube Italia era pieno di reaction a 5 minuti grave esatto vanno a periodi magari il comment arriva fra un po' fra qualche anno non lo so non andrà più e ci sarà qualcos'altro il comment alla differenza di altre cose rispetto al reaction non possono parlare di tanti argomenti perché devono parlare di argomenti gossip del momento o se no non hanno successo nel reaction altre cose quello può portare tante cose diverse ma anche lì dipende ti dico perché e per quanto riguarda le reaction a determinate cose cioè se il canale è incentrato sulle Barbie tu non puoi un giorno portare boh i militari non avrebbe molto senso perché anche lì si basa un po' sull'argomento se inizia a deviare certo puoi attirare poi gente che vuole vedere quello ma se poi di nuovo torna a postare nel riguardo alle Barbie la gente dirà aspetta un attimo però a me il video sui militari era piaciuto perché non ne mette altri oppure quelli che guardano solo le reaction alle Barbie dicono aspetta un attimo che cazzo è di fare roba sui militari capito deve essere è giusto che ci sia un argomento generico sì per quanto riguarda il commentary si guarderanno di video diversi per le opinioni diverse ci sta dato che un tipo offende un altro tipo poi si fa denunciare quindi per una cosa e per l'altra ci sto dentro anch'io permettetemi qui e ora davanti a voi di non fare sconti a nessuno ok uomo insetto ha avuto una carriera incostante sulla piattaforma faceva video anni fa non è mai emerso più di tanto ha fatto una pausa dopo un suo progetto che non è riuscito a fare i numeri previsti ma ultimamente è tornato con il proposito di essere un contraltare a tutti quei canali commentary che a suo dire spargerebbero odio e divisione tra i giovani ma io non capisco sta cosa anche di canali commentary come per esempio questo ragazzo uomo insetto che si mettono a spallare merda poi sugli altri secondo me cercano di attirare l'attenzione e poi di conseguenza insultando gli altri canali più grossi e gli altri canali più grossi notano e li fanno pubblicità poi facendo video di questo tipo la cosa più bella sarebbe ignorare completamente perché potrebbe essere una tattica cercare di attirare l'attenzione e quindi di conseguenza in qualche modo poi qualcuno magari va a vedere anche i suoi video si è proposto di essere un modello per le nuove generazioni un modello capace di far comprendere l'esercizio attivo del pensiero critico asservito a ciò che è giusto l'uomo insetto è tornato e mi prenderò tutto queste le sue proverbiali parole alla fine del video che ne annunciava il ritorno dunque a tutti gli youtuber che stanno in alto adesso che vivono di frasi fatte e di video che fanno numeri con pensieri raccomentati quanto l'attività è incazzatissimo ma l'uomo insetto ma raga se l'uomo insetto fosse dillo senza piangere l'uomo insetto è dillo senza piangere si sarà rincarnato nooo perché il mindset è uguale è tipo molto è molto simile ed eccolo qui il modello per le nuove generazioni di giovani una persona che dà del coglione compagnia cantante nel momento in cui fai dei contenuti ritenuti da lui superficiali o inutili o ridondanti una persona che ha preteso il mio intervento dopo che lui si è fatto querellare e occhia a non intervenire perché da quel momento riceverai lo stesso trattamento del nemico non posso divulgare chat e conversazioni private per farvi vedere l'atteggiamento di uomo insetto nei confronti di chi non si è schierato con lui però per fortuna quest'ultimo ci ha dato un piccolissimo assaggio in questa conversazione perfettamente pubblica del suo comportamento con un collega piccolo assaggino ma molto significativo dal mio punto di vista una persona che mi ha chiesto spiegazioni per il mio comportamento io ho fatto diversi vocali per un totale di circa otto minuti nei quali spiego tu preferisci l'uomo insetto o tweener? non posso esprimere la mia opinione a riguardo sono seduta sulla staccionata in questo momento e sto dondolando le mie gabbine per file per segno la mia posizione il perché non voglio essere coinvolto nella cosa spaziendo anche sul mio rapporto con internet e con i social e criticando anche l'atteggiamento di uomo insetto in queste ultime settimane perché a mio parere avrebbe preso una piega da cui mi voglio dissociare dato che questo è un mio vocale posso farvi ascoltare un estratto che magari potrebbe essere interessante ok? dirò il vero nome di uomo insetto in questo vocale ma il suo nome è pubblico visibilissimo anche su instagram quindi è tutto ok è chiaro che non è il mezzo per i veri dibattiti è il mezzo per veicolare incazzature perché ti fanno stare di più attaccate allo schermo e quindi chi sta comunque in cima monetizza sul tuo tempo mentre tu ti senti importante perché ti senti dalla parte di quelli che pensano bene dalla parte del bene e posso essere sincero per me Mattia ma perché vi mandate i vocali? chiamatevi! immagina a discutere tramite i vocali che nervi speriamo faccia una storia domani dove insulta pure Vic vai dirlo senza piangere aka l'uomo insetto dai è proprio caduto con tutte le scarpe in questa trappola perché sinceramente so che questa cosa della quenella di Alistair è partita alcuni dicono dopo tu dici prima che tu iniziassi a pagare ma posso dire che stando su questo gruppo io vedo che da mesi tu stai avvelenatissimo perché c'è gente che c'hanno un gruppo un gruppo dei canali commentary posso entrare c'è anch'io non usa il medium come esattamente vorresti tu e offendi anche pesantemente sul personale posso dire che tu ci sei caduto con tutte le scarpe in questo sistema questo è quel che penso assieme ad una miriade di altri concetti che ho espresso per motivare le mie azioni concetti che il grande uomo insetto ha riassunto nel suo video in gli conviene ipocrisia sarebbe stato d'aiuto ascoltare i miei vocali secondo me dopo avermi chiesto spiegazioni ma qualcuno era già sul suo discord in mezzo alla sua bolgia di fan che gli alimentavano i bias per annunciare che sarei stato incluso anche io nel suo video contro Alistair quindi Mattia tiriamole un po' queste somme perché tu vuoi essere in protesta un canale che usa il pensiero critico per essere Vic lo dice senza piangere ti immagini? no in realtà anni fa mi avevano come si dice attaccato un nome dicevano che se io dovesse essere un rapper un giorno mi chiamerei Vic Lamento quanto spaccherebbe Vic Lamento beh perché se voglio mi posso lamentare un botto e lamentandomi di conseguenza insulterei un bel po' di persone ci starebbe essere ad esempio ai giovani contro invece i canali commentari mediche creano divisioni e fomentano l'intolleranza ma nella pratica ci sono una serie di cose che fanno molto autoritarismo e io te lo dico in primo luogo l'accanimento verso i content creator che fanno contenuti che non ti vanno a genio con tanto di offese offese che non includi nel tuo video quindi mettiamoci anche un piccolo di manipolazione delle informazioni perché è palese che la querela non sia scattata per l'opinione diversa ma per tutto ciò che c'è attorno mettiamoci anche l'ostilità nei confronti di chi non si schiera dalla tua parte anzi contro chi come me non prende le parti di nessuno com'è che si dice aspetta o con noi o contro di noi cercati su google al volo chi ha usato questo detto ok quindi abbiamo anche la pretesa di schieramento forzato e infine una bella guarnizione di moralismo inquisitorio Mattia per essere uno che combatte contro certi estremismi ti manca solo il braccio destro alzato cioè fatelo dire mi fa riflettere perché se ci pensate questo moralismo inquisitorio questa richiesta di uno schieramento forzato non sono appannaggio di una sola parte politica pensate a tutti quelli che esortano i VIP o personaggi pubblici sui social a schierarsi ad esempio a favore o contro una nazione in guerra o a parlare di politica anche se quel personaggio pubblico è tipo Taylor Swift che non c'entra una mazza con sto mondo è un po' quello che succede qua l'uomo insetto sta avvelenatissimo per ogni video che a suo dire si concentra su l'uomo insetto stai attento per essere schiacciato eh sì eh sì 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 ok andiamo avanti ho caldo in faccia ma ho freddo al corpo qui ragazzi lo dico sarà la prima volta ma ho molta più stima per tweener che nei confronti di questa gente qua questi ragazzi sono i peggiori youtuber della storia italiana e potete pensare quello che volete ma per me è così e resterà così fino a quando non decideranno di fare video validi perché ne sono in grado bene ragazzi a questa clip io risponderò con la migliore mia argomentazione dall'inizio della mia carriera su youtube un'argomentazione che fa impallire tutte quelle che ho usato dall'inizio sapete qual è questa affermazione eh sti cazzi mamma di ok chi cazzo sei c'è una cosa che penso un danno che internet ha fatto alla mente delle persone ovvero illuderle di contare qualcosa illuderle del fatto che esprimere un giudizio sul prossimo sia importante di per sé lo vedo anche nei singoli commenti che a volte mi arrivano del tipo questo video non mi è piaciuto e quindi il valore di un giudizio è dato dalle argomentazioni che lo accompagnano perché se non ci sono è solo il parere di uno sconosciuto uomo insetto ho perso la stima nei tuoi confronti pensi che io abbia potenzialità ma quanto paternalismo vuoi esprimere in un singolo commento ma tu chi cazzo sei e non lo dico perché io faccio molte più views e ho più iscritti di te chi se ne frega lo direi anche nella situazione opposta chi sei perché mi dovrebbe importare di acquistare o perdere la tua stima io non ti conosco hai presente il detto l'amore si fa in due no se tu sei una persona a caso ma che cazzo me ne frega della tua opinione perché devo virare per essere più conforme ai tuoi gusti sei la mia ragazza sei un mio parente stretto sei un amico importante sei una persona con cui danni ho reciproca stima intellettuale no non ti conosco chi se ne frega se non ho la tua stima anzi godo che non la ho non posso piacere a tutti e non mi devo minimamente preoccupare di piacere a tutti bravissimo sport per dire che sto attivamente dicendo quello che penso sbattendomene di essere lì tutto timido che ha paura però una domanda perché ha fatto questo video cioè era un modo per smerdarlo per far vedere agli altri quanto è un pezzo di fango l'uomo insetto intendo o perché effettivamente un po' magari c'è rimasto per il fatto che per tutto il difigio che c'è stato tra A e l'istere e quelle robe lì pura di non accontentare tutti e veniamo quindi alla conclusione di questo video facciamo un po' di autocritica adesso che mi sia di lezione tutto questo la prossima volta che una parte marginale che una persona per darci il gossip vero mi sia di lezione tutto questo la prossima volta che interagirò con una persona che ha la sua vita su internet spammatemi questo video per ricordarmi che anche se come proposito io ho il relegare internet ad una parte marginale della mia vita se sto vicino a gente così prima o dopo ci verrò trascinato dentro senza che me ne freghi un cazzo e ricevendo pure giudizi da una persona di cui non mi frega una ceppa di minchia di niente che mi sia da lezione Doggo maestro di vita dovete sapere che il Doggo non è un serpente era un canale commentary ormai purtroppo inattivo gestito da un ragazzo con cui tra l'altro è un po' dovuto per il follower anche se è saltuario quando si era tentato per la prima volta di creare un gruppo whatsapp tra canali commentary Doggo fu uno dei primi ad uscire e mi disse la seguente cosa questa gente è un po' troppo dentro internet e io onestamente me ne tiro fuori e dovresti farlo anche tu e minchia se aveva ragione quindi nulla ponti tagliati con gente del genere da ora in poi guardia alta prima di crearne altri Doggo maestro di vita il canale è già morto il canale ci vediamo alla prossima io che volevo il trarci niente non è morto vabbè sarebbe meglio di no comunque sarebbe meglio di no grande video di Svortus come sempre di Svortus